Allora ragazzi, com'è andata l'esame? Io la faccio sabato, mentre lei l'ha appena svolto stamattina. Allora chiediamo a te. Penso sia andata bene, sinceramente finché non aspetto gli esiti non lo posso sapere. Comunque è stato molto emozionante, soprattutto perché sono stata anche la prima a passare. Però è stata un'esperienza che comunque rimane. E come si è svolto praticamente? Allora, è cominciato esponendo l'elaborato che abbiamo presentato. E' svolto a casa nelle due settimane precedenti, portando comunque un dolce ideato da noi. Poi si è svolto parlando di un testo di italiano, facendo collegamenti con gli autori. Il terzo punto è stato l'estrazione di una busta e il collegamento a tre materie, chimica, inglese e tecnica. Poi c'è stato un collegamento con cittadinanza e storia e infine i percorsi di stagio svolti in questi cinque anni. Sì, dobbiamo dare il meglio, infatti mi sto iniziando ancora a preparare sempre meglio e speriamo vada bene, incrociamo le dita.